Ben trovati all'appuntamento settimanale dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che questa settimana ci parlerà dello svezzamento, una fase importante per quanto riguarda il neonato. Dopo la fase dell'allattamento giunge poi lo svezzamento. Allora quali consigli utili soprattutto per le neomamme? Sì esatto, allora lo svezzamento è appunto il momento alimentare più importante del primo anno di età in cui si hanno tutta una serie di adattamenti metabolici e digestivi. Non c'è un tempo preciso per tutti per in cui iniziare lo svezzamento, però i consigli del Ministero della Salute e dell'OMS consigliano, dato i primi mesi in cui si ha l'alimentazione lattea esclusiva, di continuare fino al sesto mese. Ovviamente poi con l'alimentazione e quindi l'allattamento al seno, una volta aggiunti anche gli alimenti complementari dello svezzamento si può comunque continuare con l'allattamento. Però quando questo non è possibile, in linea generale, lo svezzamento deve iniziare non prima del quarto mese e non oltre il sesto mese. Mentre nel passato si aveva un po' dei tempi diversi, questo perché per una diversa disponibilità di alimenti meno digeribili per il lattante, oggi invece c'è una maggiore libertà, una maggiore tolleranza di quelli che sono gli alimenti che devono essere inseriti e quindi delle regole uguali e precise per tutti non ci sono. In linea di massima possiamo dire che nel sesto mese il primo pasto non latteo da parte del bambino può essere composto da un brodo vegetale con della farina di riso, quindi di un cereale non contenente glutine e in cui nei giorni successivi può essere aggiunto un cucchiaino di olio o del parmigiano grattugiato e poi si può completare il pasto con il latte materno. Dal settimo mese si possono inserire volendo degli omogenizzati che possono essere di carne e di pesce, dall'ottavo i legumi che però devono essere sbucciati e passati, dal nonno mese si può aggiungere un tuorlo d'uovo a settimana e si possono sostituire gli omogenizzati con della carne e del pesce però tagliati molto finemente. Per quanto riguarda la frutta va inserita sin dal sesto mese, fresca o omogenizzata, meglio fresca sicuramente perché gli omogenizzati di frutta tendono ad essere addizionati di zuccheri semplici e partendo però da quei frutti più digeribili come mela, pera e poi gradualmente inserire tutti gli altri tipi di frutto. Dottore per quanto riguarda invece l'autosvezzamento che cosa può dirci? L'autosvezzamento in effetti consiste nell'alimentazione complementare a richiesta, cioè quella di seguire le preferenze e le inclinazioni del bambino verso il cibo. Chiaramente è possibile però bisogna comunque sempre prestare attenzione a delle regole generali, cioè fare attenzione al sale, agli zuccheri e non cadere in un eccesso proteico, che questa è una cosa che molto spesso avviene. Molti studi hanno correlato l'eccesso proteico con una maggiore incidenza di obesità nei mesi e negli anni successivi. Ecco, in questi anni ci sono sempre più famiglie vegetariane e vegane. Qual è il consiglio da parte sua a queste persone che hanno poi dei bambini e quindi iniziano anche allo svezzamento? Sì, anche in questo caso lo svezzamento vegetariano o vegano è in teoria possibile, consigliato da pochi pediatri a dire la verità, anche perché comporta tutta una serie di problematiche maggiori, perché non sempre è possibile coprire tutto il fabbisogno nutrizionale attraverso questo tipo di svezzamento. Quindi seppur sempre viene richiesto con una maggiore frequenza bisogna affidarsi a qualcuno, a un professionista che possa far seguire uno svezzamento di questo tipo. Chiaramente però, come diciamo, c'è sempre dietro l'angolo la possibilità di alcune carenze che quindi poi vanno supplementate diciamo con degli integratori per evitare appunto la carenza di alcune vitamine, ma anche di ferro e quindi insomma è un qualcosa da su cui pensare bene prima di intraprendere questa strada. Bene, grazie dottore, sicuri di aver fatto cosa gradita soprattutto alle neomamme. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre su Cilentocianne con la rubrica nutrizione e benessere. Grazie a tutti.